Un inseguimento di balcone in balcone al ferro di cavallo di Pescara. Un 37enne all'arrivo della Guardia di Finanza ha scavalcato la balaustra per gettare dei pacchi di droga da un appartamento disabitato e murato, ma i militari lo hanno inseguito da un terrazzino all'altro, riuscendo ad arrestarlo. Un nuovo episodio dell'operazione Drag Market questo fine settimana nel quartiere Rancitelli, che ha visto la collaborazione tra Fiamme Gialle, Unità Cinofile, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono stati necessari a recuperare con l'autoscala il presunto spacciatore che provava a nascondersi in uno degli appartamenti vuoti. 82 grammi di sostanze illegali tra cocaina ed eroina sono stati sequestrati all'uomo pluripregiudicato che ora dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica ha disposto la misura cautelare dell'arresto e convalidato la perquisizione locale e il sequestro. La droga, una volta immessa nel mercato, secondo i finanzieri avrebbe fruttato quasi 8.000 euro e sono stati sequestrati anche 1.700 euro in contanti. Drag Market è un piano d'azione strutturato, ha dichiarato il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonio Caputo. I nostri interventi sono mirati e si basano sulla conoscenza del territorio. L'obiettivo è duplice, ha concluso il colonnello, risalire la filiera illegale della droga e bloccarne i flussi di approvvigionamento.